L'università riflette la nostra società, una società plurale e multiculturale. Milano Bicocca sta per lanciare un progetto di ricerca che ci permetterà di approfondire la conoscenza della realtà internazionale del nostro Ateneo. Sei uno studente straniero o di origine non italiana? Rispondendo a questo questionario puoi aiutarci a pensare a nuovi servizi ed opportunità rivolti alla nostra comunità internazionale. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua esperienza in prima persona. Fai sentire la tua voce compilando il questionario che riceverai via mail. Asso il tuo cuore, chiedendo il questionario che riceverà il porto elettronico. Fai sentire la voce compilando il questionario che riceverai via mail. Che d'è d'oggiò azzerri yt, plotoso formulari na dërguar në poston tuaj elektronike. Gafiuan kara emailitin si erga murrat, ati skoda ke irratir maddu.